Il litorale di Messina tra i mestieri nelle fotoricordo scattate prima del 2006 si vedono dei massi frangiflutti che proteggono la spiaggia, una spiaggia che oggi non c'è più, erosa dall'avvicinarsi del mare che ha già devastato l'unica strada a disposizione di chi abita qui, vivendo con il terrore delle mareggiate. Le strade in emergenza sono le vie Veglia e Carbonara, pochi anni fa, a debita distanza dal mare, oggi già parzialmente crollate. Posso dire al comune che la questione qua si vede da solo, non c'è bisogno che io devo dire che qua è un'urgenza, questo è tutto, ci sono le famiglie che qua le macchine le lasciano fuori, se ci dovrebbe essere un'emergenza qua non lo so se ci viene l'elicottero o qualche altra cosa a salvarci. La causa dell'erosione è ben nota, il porto d'emergenza di tre mestieri realizzato nel 2006 per liberare il centro di Messina dal traffico dei tir, una struttura che non ha mai funzionato a dovere. I suoi fondali sono periodicamente insabbiati perché bloccano il materiale naturale di ripascimento della costa poco più a nord, generando l'erosione che adesso mette a rischio tante abitazioni. Le foto che ci hanno consegnato i residenti dicono più di mille parole. Ma c'è di più, la strada che cede è l'unica via di fuga per tante famiglie attraversa un ponte ferroviario, il passaggio però è troppo stretto, non consente l'arrivo di ambulanze o mezzi di vigili del fuoco. Il consigliere del primo quartiere, Domenico Allone, da anni chiede l'allargamento del passaggio, ma nessuno interviene, nonostante anche i documenti della protezione civile abbiano certificato i gravi rischi. Io ho da 2010 che ho portato tutte le carte, sia alla magistratura, sia al prefetto, sia al sindaco. Non è corretto lasciare l'unica via di fuga dove non passano i mezzi di soccorso, le ambulanze, i vigili del fuoco. Io ora chiedo, lancio quest'allarme, che qualcuno sensibile di questa amministrazione si metta in gioco, si mette in gioco e faccia qualcosa. Per il momento l'unico intervento previsto per proteggere i cittadini delle vie veglie carbonare è la ricollocazione dei massi frangiflutti. Per la strada che crolla e per l'inesistente via di fuga dal comune ancora nessuna risposta. Il presidente del primo quartiere Enzo Messina ha scritto al prefetto Stefano Trotta per chiedere che vengano adottate soluzioni in tempi brevi.